benvenuti a una nuova puntata dell'incontro ospite di oggi è desiree scucuglia pianista di fama internazionale e orgoglio ternano allora desiree io buonasera inizierei subito con un video che mostra la tua musica ok grazie a tutti allora desiree iniziamo con le domande di riscaldamento benissimo come è nata la passione per la musica e perché hai scelto proprio il pianoforte in realtà è stato un caso la passione per la musica è nata in famiglia perché a casa mia erano tutti appassionati di musica a partire dai nonni mio nonno era il nonno materno era clanirettista e da giovane parliamo dei primi nel novecento aveva studiato carinetto per l'appunto qui a terni e insomma ha praticato molto lo strumento tanto di arrivare a suonare con sotto la direzione mascagni poi lui conosceva tutte le opere era veramente un grande appassionato poi dopo non ci fu la guerra quindi insomma per le vicissitudini personali non poter continuare diciamo l'attività come professione ma aveva uno straordinario orecchio ed era molto appassionato quindi questa cosa sicuramente insomma già dalla parte materna poi c'era il mio bisnonno che pur essendo non vedente lui era un grande appassionato conosceva tutte le opere perché terni era una piazza importante per l'opera lirica cioè le opere che debuttavano a roma prima venivano venivano a terni facevano una specie di prova generale quando ancora avevamo il teatro ancora c'era un teatro speriamo di riaverle il primo speriamo perché è importante un teatro per una città è fondamentale c'è uno spazio fondamentale non solo per la musica insomma per le arti performative no abbiamo fatto diversi servizi in merito e tutta la città ne sento il bisogno ogni volta che mi capita di tornare in città e di passare davanti al teatro verdi e ricordo i tempi del conservatorio quando si facevano i grandi spettacoli c'erano dei bellissimi concerti c'era la stagione di danza c'era la stagione di prosa è un pochettino mi si stringe il cuore per quanto ci siano altri spazi però il teatro era il teatro verdi era un bellissimo teatro quindi beh poi il caos comunque per quanto sia un teatro non regge il confronto anche semplicemente la posizione al centro della città comunque secondo me è fondamentale ci sia speriamo che si risolva e quindi da parte materna sicuramente mio padre a mio padre piaceva moltissimo la musica e suonava la tromba da autodidatta mia madre aveva studiato pianoforte e anche lei grande appassionata quindi mi portava a vedere le opere mi portava ai concerti per cui è stata una cosa quasi naturale poi da piccola studiavo danza classica in realtà perché avrei voluto fare la ballerina per fortuna non l'ho fatta ma non per altro perché c'ho una stazza che non mi permetterebbe certamente di stare in tutù per cui è stata sempre una mia grande passione io ho un amore proprio profondo per la danza quindi diciamo che poi ci fu questo passaggio al pianoforte che fu comunque casuale perché c'è il pianoforte in casa quindi beh ci sta il pianoforte in casa studia pianoforte in realtà non è che io fossi così appassionata all'inizio come tutti i bambini insomma sono stata più indirizzata dai miei genitori perché a me sarebbe piaciuto tantissimo suonare il violino oppure uno strumento a fiato però non è sul pianoforte e quello alla fine è andato bene così poi c'è stato un incontro fondamentale che è stato a dieci anni col maestro angelo pepicelli e lì veramente con lui quando prima avevo un bravissimo insegnante molto paziente devo dire una persona straordinaria che era un collega di lavoro di mio padre e poi quando i miei dissero beh forse ora è il caso che facciamo un percorso più strutturato più serio eccetera mi fecero sentire da angelo che mi dite un po' di lezioni e lui proprio mi aprì questo mondo e mi appassionai tantissimo e da lì poi è nata questa grande passione che non mi ha più abbandonata quindi sei una figlia d'arte e poi il pianoforte è avvenuto così per caso ma è stato tutto ma la mia vita è stata un po' tutta un caso devo dire anche molte scelte professionali occasioni sono sempre state situazioni in cui mi sono trovata e in cui trovandomi però forse ho cercato di dare proprio il meglio per cui poi sono aperte delle altre possibilità e poi insomma il pianoforte è uno degli strumenti più impegnativi da suonare lo so perché anche mia mamma è diplomata in pianoforte tra l'altro so che non siete diplomate lo stesso giorno come è stato studiare in conservatorio e quali sono le differenze dal momento che tu sei anche docente adesso nei conservatori nello studio rispetto al passato oggi se ci sono chiaramente allora il mio periodo del conservatorio è stato un periodo bellissimo proprio stupendo proprio ho dei ricordi meravigliosi e non più tardi di stamattina mi sono vista tornando a Terni con la mia compagna di conservatorio e tantissimi amici tanta gioia di fare musica tanta gioia di fare musica insieme tantissime produzioni perché era un periodo in cui c'era molto fermento un insegnante molto severo ma bravissimo un insegnante musica da camera altrettanto severo ma bravissimo quindi sono stata veramente fortunata è stato penso uno dei periodi più belli della mia vita in assoluto sicuramente è stata un'esperienza anche molto utile perché comunque questo impegno che all'epoca non era come oggi nel senso che oggi i ragazzi si organizzano, sono molto impegnati e hanno molte lezioni noi stavamo in conservatorio tutti i giorni tutti i giorni e non c'era un orario cioè il maestro non ti diceva vieni a fare la lezione dalle 3 alle 4 il maestro diceva vieni alle 2 e finisci alle 8 e lì stavi perché dovevi seguire anche le lezioni degli altri ed effettivamente c'era una grande utilità in questa cosa adesso un po' ha cambiato perché ovviamente uno deve anche un po' adeguarsi un po' ai cambiamenti che avvengono nella vita la quotidianità, i ragazzi sono molto più impegnati anche la scuola è strutturata in modo diverso quindi diciamo che personalmente ma questa è una mia opinione personale il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento non è che sia stato poi così vantaggioso a mio avviso intanto perché noi cominciavamo ad un'età cioè cominciavamo molto presto entravamo a 10 anni in conservatorio, 11 e quindi avevi, cioè praticamente tu crescevi in conservatorio e un conto è prendere un allievo quando è così piccolo e quando quindi lo puoi strutturare in un certo modo un conto è adesso l'idea dell'università per cui spesso capita che arrivino ragazzi che presentano problemi, lacune, mancanze proprio importanti proprio nella preparazione anche di base talvolta no ma talvolta capita e quindi è molto diverso poi canti cambia anche la forma mentis nel senso noi eravamo abituati ci organizzavamo con i compiti trovavamo anche il tempo per stare insieme per divertirci, per fare musica insieme quindi cominciavi da piccolo e avevi una scuola di rigore, di disciplina anche di sacrificio ma imparavi a sostenerli e imparavi a gestirti anche già in un'età tenera cioè in tenera età a 10 anni, 11 anni quindi quando uno è piccolo e poi finivamo molto prima perché comunque a 18 anni, 19 eravamo già diplomati il che significava poter andare fuori poter fare le masterclass potersi confrontare con altri con altri ambienti, altre situazioni altri maestri adesso come adesso salvo qualche rara eccezione in ogni caso tu ti puoi laureare puoi conseguire una laurea di primo livello una volta conseguita la maturità il che significa che il secondo livello lo prendi due anni dopo quindi sei già insomma intorno ai 21 anni quindi diciamo c'è quando va bene perché poi se poco o poco ritardi un anno se salta qualche esame qualcosa cioè spesso di capire insomma che bm escono a 23-24 anni e effettivamente poi da lì si comincia quindi secondo me è un po' tardi considerando che la media anche nei concorsi internazionali si è molto abbassata la media dell'età per cui diciamo che insomma quindi si è allungato il tempo dello studio ma si è abbassata l'età sì e poi il problema è che anche quando ci è capitato di avere dei grandissimi talenti cioè dei ragazzi che a 15-16 anni potevano tranquillamente diplomarsi insomma laurearsi come si dice adesso poi in realtà è un diploma quindi non è una vera e propria laurea secondo così cioè lo chiamano laurea ma è ancora il diploma così come veniva inteso prima però non si possono non li possiamo far laureare perché non hanno la maturità devono aspettare la maturità devono cioè è abbastanza farraginoso secondo me non solo bastava secondo me semplicemente rivedere i programmi di studio perché i programmi di studio erano effettivamente un pochettino obsoleti in molta parte molta musica e una buona fetta di musica veniva tagliata fuori adesso come adesso questa programmazione può diventare l'escamotage per scegliere delle scorciatoie dipende sempre un po' dall'insegnante io le scorciatoie non le faccio usare però non sempre è così quello poi dopo dipende molto da noi e senti come cambia lo studio della musica dal conservatorio invece alle lauree per l'appunto di primo secondo livello cioè in che cosa è diverso c'è una specializzazione perché in realtà io so che la specializzazione avviene appunto già prima in conservatorio ma sì cioè nel senso che allora in realtà è cambiato tutto non è cambiato niente in pratica tu parti con i corsi di base e prendi i ragazzi e ci sono nei conservatori spesso gli fanno gli stessi docenti di pianoforte oppure ci stanno dei contrattisti che fanno i corsi di base poi c'è un propedeutico che corrisponde grosso modo più o meno dovrebbe portarti un livello di quarto quinto anno grosso modo e poi fai il passaggio all'accadenico che in teoria dovrebbe essere dal sesto anno quello che era il vecchio sesto anno fino all'ottavo per quanto riguarda il primo livello e poi fino al decimo per quanto riguarda il secondo livello più o meno grosso modo se vogliamo fare un po' una forzatura questo è quindi in realtà è cambiato poco poi dipende i percorsi sono molto molto personali perché ogni ragazzo ha un mondo a sé quindi ognuno di voi costruisce il vestito un po' in base al ragazzo che è davanti diciamo che quando hai ottenuto la laurea di primo livello puoi scegliere vari tipi di percorsi che sono diciamo hanno un piano di studi di mirato per quello che tu vorrai poi fare quindi puoi scegliere di prendere una laurea di secondo livello in pianoforte oppure fare una laurea di secondo livello ad esempio in musica da camera oppure in accompagnamento pianistico per fare il corripetitore nei teatri oppure lavorare magari con gli strumenti eccetera oppure puoi quindi diciamo dopo puoi specializzarti in un settore nello specifico senza trascurare però le altre materie perché comunque le altre materie le fai in ogni caso ma magari con un numero inferiore di ore insomma quindi diciamo che in realtà la vera specializzazione poi diventa avviene subito dopo nel senso che quando poi esci dal conservatorio a quel punto scegli un pochettino che tipo di percorso vuoi fare a seconda delle tue inclinazioni personali del tuo talento delle tue capacità di quello che ti è più congeniale insomma e invece che cosa ne pensi dell'insegnamento della musica nelle scuole dell'obbligo ma io trovo che nella scuola dell'obbligo ci siano dei grandissimi professionisti che insegnano musica spesso e spesso veramente lottano con lunghe e con i denti perché adesso c'è un po' più di sensibilità un po' più di attenzione fortunatamente ma io ricordo i miei primi anni dopo il diploma quando cominciavano le prime scuole che si chiamano la sperimentazione musicale scuola sperimentale di indirizzo musicale quindi non era ancora la scuola di indirizzo musicale che c'è oggi insomma il liceo musicale oggi oggi c'è il liceo musicale c'è la scuola di indirizzo musicale all'epoca era ancora una sperimentazione quindi sono vecchietta però attualmente nei licei e nelle scuole di indirizzo musicale ci sono fior fior di professionisti quindi i ragazzi escono molto ben preparati ed è bello che ci sia questo percorso diciamo che parte appunto dai 10-11 anni si è un po' sostituito a quello che era il conservatore vecchio ordinamento il percorso scolastico però appunto devo dire la qualità degli insegnanti è veramente molto alta perché sono molto anche molto severe e molto sono molto esigenti in termini di scelta dei docenti insomma e quindi chi occupa una cattere in queste istituzioni scolastiche sono comunque persone che hanno un'attività concertistica che hanno degli studi importanti alle spalle eccetera e quindi in questo senso è una bellissima cosa insomma poi vedo che i licei musicali soprattutto fanno tantissime cose fanno tante attività c'è un grande rapporto un rapporto strettissimo col conservatorio per cui collaboriamo e quindi questa è una cosa estremamente positiva insomma e senti se un ragazzo volesse fare il musicista e il musicista di musica classica che cosa gli consiglieresti? beh guarda cioè l'unica cosa che mi sento di dire che dico spesso anche ai miei allievi cioè su due tre cose intanto grande disciplina grande rigore grande serietà sempre massima proprio professionalità in quello che fai anche dalla cosa più semplice più piccola alla cosa più importante e poi soprattutto ci deve essere una grande passione perché se c'è una grande passione allora allora lo fai se no no perché diciamo che è un percorso molto impegnativo è un ambiente comunque impegnativo e poi non solo ti si soprattutto nel momento in cui io sono stata freelance per moltissimi anni quindi ho lavorato per moltissimi anni e ho vissuto con il mio lavoro di musicista non avevo posto in conservatorio né posto a scuola niente e devi essere sempre al top perché poi appunto l'occasione giusta arriva nel momento in cui non te l'aspetti che magari ti apre delle altre possibilità e quindi non devi mai essere impreparato comunque devi avere comunque una soglia di minimo garantito alto molto alto per cui da questo punto di vista ecco la prima cosa la passione poi l'impegno costante la serietà la dedizione lo spirito di sacrificio la capacità anche di adattarsi alle situazioni perché spesso ti trovi in situazioni di viaggio o di magari insomma ti devi un po' arrangiare a dormire a spostarti è abbastanza anche stressante spesso per cui diciamo che uno deve essere preparato a questo poi anche un'altra cosa il fatto che magari non sempre le cose vanno come necessariamente tutti gli aspetti che vanno ma quando ciò dovesse accadere non prenderla male non prenderla come una tragedia oppure non lasciarsi comunque come dire avvilire abbattere ma pensare che anche un apparente fallimento possa essere un'opportunità un trampolino di lago una cosa un progetto a cui tu tenevi non viene accettato non viene preso in considerazione invece magari poi subito dopo cioè se uno parte con questo presupposto in realtà diciamo è tutto più semplice è un'attitudine quindi sì 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 va bene allora io chiedo alla regia di mandare il secondo contributo per favore poi torniamo con le domande su di te ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, ci tengo a parlare del mio collega, amico. Io ho diverse collaborazioni. Questa forse è la più antica perché lui è Gianluca Giganti, un violoncellista eccezionale. E' stato l'unico italiano che ha vinto il premio al concorso Primavera di Praga. Ah, ci becchia. Quindi è molto giovane, tra l'altro. Poi ha vinto il Caruana, che era un concorso molto importante, che faceva una cremona, che per dire vinse il primo violoncello dei Berliner. Quindi voglio dire, lui è veramente un artista straordinario. E noi sognavamo insieme da quando siamo praticamente quasi ragazzini. Insomma, eravamo appena diplomati tutti e due. E da allora abbiamo una storia lunghissima come duo, per cui adesso diciamo un po' più di rato, perché poi comunque abbiamo in città diverse, eccetera. C'è stato un periodo in cui praticamente siamo sempre insieme, tipo gemelli. Ed è un carissimo amico, oltre che un musicista straordinario, che mi ha insegnato vanto. Perché io sono sempre convinta che dagli altri strumenti ne impariamo tantissimo. Uno pensa al pianista, va a lezioni dal pianista, tra pianisti. In realtà dagli altri strumenti possiamo imparare veramente tanto, per quanto riguarda proprio il frateggio, l'articolazione, la respirazione. Veramente una risorsa incredibile. E questo in questo caso è stato un concerto che abbiamo fatto recentemente a Roma. Abbiamo suonato un programma di tutte i compositrici donne. Sì, era proprio incentrato su compositrici donne. Queste anche piuttosto sconosciute, a parte la Boulanger, che è molto conosciuta, ma le altre sono di rarissimo ascolto. E qua c'era un pezzo della Harriet Bonsmans, una compositrice olandese, che in Olanda è considerata una delle compositrici più importanti. È una donna abbastanza anticonformista, scrive benissimo, tra l'altro, in stile diciamo tardoromanti, un po' bramsiano. E poi l'ultimo pezzo, un altro dei pezzi, il penultimo forse, era della Teresa Procaccini, che è una compositrice vivente ancora. E quest'anno, adesso a marzo, si festeggia il suo novantesimo compleanno. E lei è stata allieva di Casella, quindi diciamo a custode della tradizione dei compositori italiani del Novecento. Per cui scrive veramente molto bene, per cui abbiamo voluto mangiarla con questa esecuzione del suo pezzo. Bellissimo. Un bellissimo programma, devo dire, sì. Senti, invece, tornando a parlare delle delusioni, delle occasioni, nella tua carriera e nella tua esperienza personale, ovviamente, qual è stata la cosa più bella che ti è capitata e la cosa più deludente, se c'è stato qualcosa che ti ha deluso? Allora, per quanto riguarda la professione, professione, devo dire delusioni, ringraziando Dio, non ho avuto. No, cioè, devo dire la verità, mi ritengo molto fortunata, perché ho visto dei momenti proprio esaltanti, bellissimi. Per cui, se devo dire, c'è stato un momento che non, cioè, no, non c'è stato, non c'è stato. Ci sono stati, vabbè, ci sono stati dei periodi magari più difficili, più faticosi, per esempio, nelle questioni lavorative, quando aspettavi le chiamate, delle supplenze, non sapevi se arrivavano. Un tempo erano abbastanza bloccati i posti in conservatore, c'era pochissimo spazio, quindi, diciamo che ti chiamavano nel periodo che andava da novembre ad aprile, quindi aspettavi in attesa della chiamata, della supplenza, cioè, e quello è stato un periodo, poi non solo, anche tutto il periodo del percorso pre-ruolo, con tutte le domande, le cose. Poi io, devo dire, è stata fortunatissima anche lì, perché il mio miglior amico, che ha veramente una mente, oltre ad essere un pianista formidabile, ma fatto proprio da Angelo Custode, quindi, siccome io faccio un macello, perché queste cose burocratiche sono un disastro, e lui, mi ricordo, mi chiamò, mi disse, adesso mi mandi la domanda e mi fai vedere se l'hai fatta bene, per cui me la smontò verso per pezzo, mi disse, le domande si fanno così, devi fare così, 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 e da allora, piano piano, ho cominciato, insomma, un pochettino anche io a essere più precisa, più attenta, e quindi lui, siccome io sono anche abbastanza ansiosa quando ci stanno da fare queste cose che riguardano proprio la burocrazia, perché sono abbastanza, sono molto metodiche in certe cose e molto disordinate in altre, in queste sono disordinate, e lui è stato proprio, veramente un Angelo Custode, ha proprio aiutato tantissimo, e lui pure faceva le stesse domande, quindi comunque, però lui è uno preciso, è stato a tutte le leggi, tutte le cose, quindi mi ha aiutato tanto e devo dire, gli devo dire un grazie enorme, perché ha reso tutto molto più leggero, quindi non è stata una delusione, è stato più caldo, sono stati dei periodi magari più difficili, come il periodo in cui ho deciso di lasciare la mia città, e di andare, e di buttarmi così nel nulla, andando nella città in cui avevo studiato, Roma, però dove non conoscevo nessuno, però mi sono sempre sempre un sacco di possibilità, e quindi sono molto fortunata, mi sono anche impegnata tanto, quello sì, perché c'è stato anche tanto impegno, tanto lavoro, però, insomma, sono felice. E l'esperienza più bella che ricordi? Eh, esperienze più belle tante, le esperienze più belle tante, ma quella più esaltante in assoluto, quando con l'orchestra con cui collaboravo andammo in Filarmonia a Berlino, e lì dovevamo suonare un pezzo in cui il pianoforte era concertante, quindi diciamo dialogava da solo con l'orchestra, e nel pubblico c'era Vladimir Aschenazzi, c'era Negli Stessi Giorni, c'erano i Berliner che facevano le prove, quindi, insomma, fu un'esperienza proprio esaltante, eravamo tutti caricatissimi, proprio, e fu un concerto molto bello, perché poi in Filarmonia ci fu una standing ovation che durò un sacco di tempo, per cui, insomma, fu un'esperienza veramente molto esaltante, cioè, poi quella per noi è comunque una di quelle sale che sono proprio un punto d'arrivo, cioè, forse una delle sale più importanti del mondo, proprio, e eravamo in stagione proprio dei Berliner, quindi era una situazione abbastanza importante, per cui, però eravamo tutti molto carichi, insomma, c'era molta emozione, ma era un'emozione positiva, ecco. E senti, che cosa rappresenta la musica per te? Tutto. Cioè, tutto. Ne hai fatto la missione della tua vita, quindi. Cioè, per me è proprio, è una cosa, cioè, è imprescindibile, cioè, nel senso, la musica ci deve essere, se non c'è, non ci sto io, nel senso che, per me è tutto, ma tutta la musica poi, non solo quella classica, cioè, a me piace anche il rock, mi piacciono le canzoni, poi è ovvio che l'ascolto varia, a seconda anche del momento, della situazione, però io amo proprio, io devo stare nella musica, per me è proprio la vita. Invece, che cosa ne pensi della musica e dell'intelligenza artificiale? Questa domanda complicatissima, perché, intanto io sono una boomer, quindi c'è il telefonino, comincio a perdere il volto. Credo che sia molto interessante e credo che, per quanto ne so poco, credo che apra degli scenari veramente importanti, nel senso che si potranno fare tantissime cose grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. La mia unica perplessità è il fatto che, comunque, l'intelligenza artificiale lavora su una serie, comunque, raffinatissima e molteplice di informazioni. Però, poi, quando sento, che ne so, la sinfonia di Brahms, la sinfonia di Beethoven, penso sempre che, comunque, il genio umano non sarà mai sostituibile. Cioè, quella luce, quel fuoco, quel momento di creazione pura, una macchina non lo potrà mai sostituire. Cioè, almeno me lo auguro. Va bene, allora, l'ultima domanda. Quali sono i tuoi progetti futuri, se ci sono a breve termine o a lungo termine? Beh, adesso una serie di concerti prossimi, molto vicini, con uno l'ho fatto la scorsa settimana, per l'appunto, con le prime parti dell'Orchestra Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia. Questa settimana ho suonato con Francesco Di Rosa, che è il primo oboe straordinario. E adesso, a breve, devo suonare con Andrea Oliva, il primo flauto dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. E poi abbiamo tutta una serie di progetti che dobbiamo realizzare con i ragazzi. E poi tutta una serie di collaborazioni, sia in Accademia, sia con l'Orchestra Aiden di Bozzano. e poi una serie di masterclass nelle quali do il mio aiuto come pianista, collaboratore, con le prime parti del Concert di Bozzano di Amsterdam. E quindi, insomma, diciamo che da fare non manca. Un'agenda bella piena. Sì, sì. Non mi lamento. Va bene, Desiree. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata mia ospite. Io ringrazio voi, grazie, anche perché a me fa sempre piacere tornare a Terni, cioè a Terni la portano il cuore. Quindi vi ringrazio moltissimo per l'ospitalità e per l'opportunità. Grazie mille. Saluto tutti i nostri telespettatori e ci salutiamo con l'ultimo pezzo del concerto che abbiamo visto. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.